Hai mai immaginato che una storia d'amore potesse trasformarsi in una corsa contro il tempo per scoprire la verità? Prima di proseguire, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Lasciaci anche un commento. Cosa ne pensi finora? Vuoi sapere come andrà a finire? E, se il video ti sta piacendo, metti un like per supportarci. Kemal è in fuga. Braccato dalla polizia, accusato dell'omicidio di Asu e circondato da prove schiaccianti, ogni passo sembra avvicinarlo all'orlo del precipizio. Ma è davvero colpevole? O è tutto parte di un piano ben orchestrato per distruggerlo? Mentre l'ombra della colpa si allunga su di lui, il detective Merkan, guidata dal suo istinto, non riesce a ignorare una verità che sfugge. Qualcosa non quadra, e Kemal potrebbe essere innocente. Eppure, il legame che sembra unire Merkan e Kemal non passa inosservato agli occhi di Nihan, che, sempre più gelosa, vede la detective come una minaccia non solo per la verità, ma anche per il suo cuore. Sul molo, una scena inquietante si rivela. Un padre e un bambino scoprono una barca macchiata di sangue. La polizia viene immediatamente allertata, ma Emir, come un falco in cerca della sua preda, arriva prima di chiunque altro. Il suo sguardo cade su un paio di guanti insanguinati, che raccoglie furtivamente, determinato a trovare risposte che possano incastrare Kemal una volta per tutte. Kemal, intanto, si trova davanti a un enigma che lo tormenta. Nel sedile posteriore della sua auto ci sono tracce di sangue, ma i ricordi della notte precedente sono un buco nero. Come è possibile? Per Nihan, la risposta è chiara. Qualcuno sta cercando di incastrarlo, e quel qualcuno potrebbe essere proprio Emir. Le tensioni aumentano quando il detective Merkan giunge al molo, trovando Emir intento a nascondere i guanti. Ignara del suo gesto, procede con l'indagine ufficiale, convocando la scientifica per analizzare la barca insanguinata. Ma mentre il cerchio si stringe intorno a Kemal, un'oscura verità inizia a emergere. Le telecamere di sorveglianza del suo palazzo mostrano un dettaglio inquietante. Assu è entrata con lui in casa, ma nessuno dei due è stato visto uscire. L'unica possibilità è un'uscita secondaria usata solo dal personale delle pulizie. Kemal e Zehir si precipitano a interrogare la ditta incaricata, ma un dettaglio li insospettisce. Qualcosa è stato manomesso. E proprio quando sembrano avvicinarsi alla verità, un messaggio in segreteria svela un collegamento con la casa di Assu. Nel frattempo, Tufan, sempre più consumato dai segreti, segue Nihan. In un momento di disperazione, le confessa che è convinto che Emir sia il vero assassino di Assu. Ma il suo piano per smascherarlo prende una piega inquietante. Con una pistola in mano, costringe Nihan a seguirlo in un magazzino abbandonato, dove prevede di affrontare Emir e ottenere una confessione. Prima di proseguire, lasciaci anche un commento. Cosa ne pensi finora? Vuoi sapere come andrà a finire? E, se il video ti sta piacendo, metti un like per supportarci! L'aria diventa elettrica quando Emir arriva nel magazzino, trovandosi faccia a faccia con Tufan, che lo accusa di essere l'assassino. Ma Emir, ferito e sanguinante, insiste sulla sua innocenza. La tensione esplode, e in un attimo di caos, Nihan riesce a fermare Tufan. Ma il danno è ormai fatto. Nel frattempo, Kemal e Zeyr si avvicinano sempre più alla verità. Scoprono che l'uscita secondaria del palazzo è collegata a un sistema automatizzato, che è stato utilizzato la notte del presunto omicidio. Tutte le piste sembrano condurre a un'unica verità. Asu potrebbe non essere morta. E infatti, il colpo di scena arriva. In un rifugio segreto, Asu, viva e vegeta, celebra la sua vendetta. Ogni dettaglio del piano è stato calcolato alla perfezione. Dal sangue trovato nella macchina di Kemal, alla barca insanguinata, ogni prova è stata posizionata con precisione chirurgica per incastrarlo. Ma mentre Asu si crogiola nel suo successo, il destino prepara un'altra mossa. Al cimitero, il corpo di Ozan, che doveva essere riesumato, è misteriosamente scomparso. Tariq, in preda all'ansia, rivela in un flashback di essere stato lui a far sparire il corpo per proteggere uno scuro segreto di famiglia. E proprio quando sembra che la verità stia per venire alla luce, il destino di Kemal, Niyan ed Emir, si intreccia ancora una volta. La detective Merkan, convinta ormai della colpevolezza di Kemal, emette un mandato di arresto, ma lui non è disposto a cedere senza combattere. Kemal si ritrova faccia a faccia con Emir, e le scintille volano. Entrambi sanno che questa è una partita a scacchi mortale, e ogni mossa potrebbe essere l'ultima. Ma chi avrà l'ultima parola? Grazie per essere arrivato fino alla fine di questo racconto avvincente. Ogni minuto di questa storia ci ha tenuti con il fiato sospeso. E se sei qui, significa che anche tu sei rimasto colpito dalla profondità dei personaggi, dai colpi di scena, e da quel mistero che continua a tormentarci. Ma non è finita qui. Quello che abbiamo visto finora è solo l'inizio. La verità è ancora nascosta tra segreti e bugie, e il destino di Kemal, Nian, Emir e tutti gli altri protagonisti è appeso a un filo. Quale sarà la prossima mossa? Riuscirà Kemal a dimostrare la sua innocenza? Asu continuerà a manipolare tutto e tutti senza mai essere scoperta? E che fine ha fatto il corpo di Ozan? Ogni domanda apre nuovi orizzonti, e il prossimo capitolo potrebbe svelare segreti che cambieranno tutto. Se anche tu vuoi scoprire come si evolveranno gli eventi, lascia un commento qui sotto con le tue teorie. Chi pensi sia il vero responsabile? Secondo te, cosa succederà nel prossimo episodio? La tua opinione è importante, e potrebbe essere proprio quella che ispira il seguito della storia. Confrontiamoci e rendiamo questa community ancora più forte e coinvolgente. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere un like. È un piccolo gesto per te, ma per noi significa tantissimo. Ci permette di continuare a creare contenuti sempre più emozionanti e curati. E non dimenticare di condividere questo video con amici e familiari. La storia diventa ancora più bella quando viene vissuta e discussa insieme. Più persone guardano, più grande diventa la nostra community. E insieme possiamo crescere e portare storie sempre più intense e coinvolgenti. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. In questo modo, sarai il primo a sapere quando pubblicheremo il prossimo episodio. Non rischiare di perderti neanche un momento di questa incredibile saga. Il meglio deve ancora venire. Ti aspettiamo nei commenti per parlare delle emozioni che abbiamo vissuto oggi e delle mille domande che ancora ci accompagnano. Il prossimo capitolo sarà ricco di rivelazioni e sono sicuro che non vorrai perderlo. Grazie per essere con noi e per far parte di questa avventura. Alla prossima!